Salve a tutte, salve a tutti, sono Mirko Cittadini e questo video è fatto in collaborazione con Carta Carbone, festival di letteratura autobiografica, l'unico festival in Italia di letteratura appunto autobiografica di Trediso, un festival molto conosciuto nel Veneto e che ha la fortuna e l'onore di ospitare artisti, scrittori di respiro nazionale e quindi per le amiche e gli amici di Carta Carbone molto volentieri parlerò in questo contributo video di Dante Alighieri. Cosa può centrarci Dante Alighieri con un festival di letteratura autobiografica? Beh sicuramente Dante ha scritto una sua autobiografia, noi sappiamo che La vita nuova è un testo giovanile dove Dante racconta le sue vicende con Beatrice ma anche la commedia, perché no? È una forma di scrittura autobiografica, è un viaggio chiaramente dell'anima, un percorso interiore ma dove a parlare è un Dante, un Dante Alighieri e in alcune notizie e informazioni del Dante che vive la vicenda noi troviamo una sconcertante identità col vero Dante Alighieri, quindi l'esilio di Firenze, alcuni amici, il tipo di studi, insomma in qualche maniera una autobiografia che sicuramente non possiamo metterla a livello delle altre autobiografie realistiche, l'autobiografia nella commedia è l'autobiografia di un percorso interiore, un viaggio che riguarda in primis Dante, Dante che ha una visione e vede i tre mondi ultraterreni, ma questo viaggio Dante lo fa per tutti quanti noi, la sua storia personale riguarda le nostre storie nel mezzo del cammin di nostra vita. Ecco questo è il grande aggancio. Probabilmente ogni storia individuale diventa specchio di altre storie e può diventare una storia universale. Le grandi storie autobiografiche, il grande potere dell'autobiografia è proprio di passare da un particolare, da un individuale e diventare universale, globale. Tra l'altro parlare di Dante in questi giorni è particolarmente calzante perché noi sappiamo che tra le ipotesi di datazione, di quando più o meno dovrebbe essere avvenuto questo viaggio che sappiamo avvenuto durante il giubileo del 1300, noi abbiamo anche delle ipotesi che vedono tra l'8 e il 14 aprile appunto il percorso, il percorso che è dentro la settimana santa. Perché? Perché Dante fa questo suo percorso di crisi nella selva e dalla selva arriva alla salvezza appunto facendo proprio le tappe, di morte e risurrezione celebrate nella Pasqua. Non è pensabile parlare della commedia in un contributo di pochi minuti e io non voglio provare minimamente a fare questo, però voglio provare a fare una cosa. Voglio cercare di parlarvi della commedia e di quanto secondo me la commedia possa essere attuale anche in questo momento di disorientamento e in questo momento in cui siamo forse anche noi in qualche selva smarriti, dove la nostra quotidianità è una quotidianità anche affaticata, ferita, voglio provare a restituirvi alcune parole di Dante che possono provare a darci una strada e starò in una metafora. Io vorrei parlare a voi del viaggio della commedia, cioè del viaggio di riscoperta di noi stessi, di attivazione potente di risorse, usando la metafora della primavera. La commedia come un grande poema della primavera. È solo perché ovviamente Pasqua è a primavera e Dante fa il viaggio a Pasqua? Non è solo questo. Non è solo questo né a livello cronologico, ma soprattutto non è questo a livello simbolico. Vi leggo alcune terzine. Siamo nel canto secondo dell'inferno. Quali fioretti dal notturno gelo, chinati e chiusi poi che il sol in bianca si trizzam tutti aperti in loro stelo, tal mi pecio di mia virtute stacca. cosa sta succedendo? Sta succedendo che Dante viene investito di questo grande privilegio poter visitare da vivo il regno dei morti, ma non è una impresa così facile. Lui proprio parla di guerra, è un'impresa faticosa e lui pensa di non esserne all'altezza di questo viaggio. E quindi mostra tutte le sue perplessità a Virgilio. E Virgilio, per convincerlo, gli dice che il viaggio è voluto da tre donne celesti, la Vergine Maria, Santa Lucia, Beatrice. Ovviamente Beatrice, che è la donna amata, e qui ritorna il tema autobiografico. Non solo, ritorna che la forte motivazione al cambiamento in noi è data da un aspetto emotivo, non da un aspetto razionale. Noi non siamo convinti fino in fondo a cambiare se questo cambiamento non arriva a toccare la nostra pancia, le nostre emozioni. E quindi Beatrice è l'aspetto anche emotivo, sentimentale. E Dante a quel punto accetta, ma la similitudine è bellissima, come i fioretti dal notturno gelo si raddrizzano, riscaldati da questo nuovo sole. Dante entra nell'inferno, nel canto terzo. Vi ricordate quelle terzine? Come d'autunno si levano le foglie. Entriamo in una dimensione di decadimento, di progressiva perdita di luce, progressiva perdita di calore. Arriveremo nel centro della terra, dove c'è Lucifero. Il centro della terra, stranamente, non è un centro appunto magmatico, come noi potremmo sapere dalla geologia. È un centro congelato. Lucifero è congelato. E la metafora che viene a Dante è quella di un mare ghiacciato. L'inferno come inverno. L'inferno come paralisi. Paralisi generata da che cosa? E qua Dante ha un'intuizione secondo me geniale. dal movimento delle sei ali di Lucifero, che batte incessantemente e non produce altro che ghiaccio. Cocito questo fiume-lago che diventa vetro, dove le anime sono conficcate. Il movimento delle ali di Lucifero non è un movimento che porta al volo. È un affannarsi che non decolla. Il male che fa sabotaggio di se stesso. Quante volte noi finiamo nel loop congelante e paralizzanti dei nostri pensieri ossessivi, dei nostri schemi meccanici, ripetitivi. Chissà, Dante, come un vero artista e poeta, riesce a avere delle intuizioni quasi psicanalitiche, quasi psicologiche. E quindi da questo freddo ghiacciato, Dante esce fuori e si ritrova nel purgatorio, sente prima il rumore di un ruscelletto, quindi il ghiaccio si scioglie e la partenza è una partenza meravigliosa. Per correre miglior acque alza le velo mai la navicella del mio ingegno. Riparte il movimento. Questa navicella sembra quasi spiccare il volo. Dante incontrerà un giunco, una pianta, che strapperà e questa pianta rinasce, risorge. Ecco il principio primaverile. Tra l'altro il canto primo del purgatorio inizia sotto la stella di Venere, di Afrodite, quindi una natura che ritorna a essere fertile, amorosa, una natura benigna, favorevole. E quindi il viaggio è un viaggio nel ritorno della bellezza della natura. Ritorna il tempo, ma è un tempo fatto sì di rituali, ma è un tempo nuovo, un tempo felice. E chissà appunto quando noi usciremmo da questo ghiaccio paralizzante un pochino saremo tenuti forse anche a stare in un regno intermedio che è questo purgatorio, dove un po' si dovrà lagrimare. Ma di queste lacrime, di questo patimento forse noi saremo felici perché sapremo che ci porterà a qualcosa di nuovo. Come se fosse un'anticamera prima di che cosa? Prima di un risveglio gioioso, luminoso, fatto di luce. E questa è l'altra immagine. Eravamo partiti da dei fioretti ancora interizziti dal gelo, una virtù che è stanca. E qual è l'immagine finale? Con cosa chiudiamo? Cos'è veramente il paradiso per Dante? In forma dunque di candida rosa. E io credo che questa sia un'immagine bellissima. Un fiore. La rosa noi sappiamo dal piccolo principe che ha la caratteristica di essere un fiore effimero, che dura poco. Dante vede il paradiso come una cosa eternamente effimera. Cioè l'immagine della beatitudine eterna non è affidata a qualcosa di forte, invulnerabile, non è un tempio, una cattedrale, è una rosa. Un'immagine fragile, preziosa, femminia. Noi ritorniamo a quel nucleo lì, un nucleo di fragilità, un nucleo di preziosità e forse anche un nucleo di una dimensione femminile, data dalla cura, dall'attesa, dall'empatia. C'è una bellissima frase che dirà un santo del paradiso. Se io mi intuiassi come tutti mi, se io entrassi dentro di te come tu entri dentro di me, mi intuiassi come tutti mi. Con questi due neologismi impressionanti. Informa dunque di candida rosa. A che cosa restituisce Dante l'immagine di felicità? Al movimento del fiorire, della fioritura. Noi, in questo movimento verticale, in questo percorso dalla selva alla salvezza, da una natura inaridita, senza luce, a questa nuova natura benigna, abbiamo il movimento del dischiudersi di un fiore. Dalla durezza alla fluidità, da un pensiero stretto a un pensiero largo, dal freddo al caldo, dal buio alla luce. Ma questa verità era già dentro la selva oscura. La prima parola in rima della commedia è vita, nel mezzo del cammin di nostra vita. E più avanti Dante dirà Io non so ben ridir come vi entrai, tant'era pien di sonno a quel punto, che la verace vi abbandonai. Ma per trattar del ben chi vi trovai. C'è un bene in questa selva oscura. E infatti Dante, come tutti quanti noi, nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai, si ritrova. E ritrovarsi sì vuol dire capitare dentro, finire dentro, ma ritrovare vuol dire anche trovare nuovamente noi stessi. Nella selva oscura c'è la possibilità di riconoscersi. Ecco, questo è questa piccola perla, questo piccolo fiore che io provo a donare a tutte quante voi, a tutti quanti voi. Ringrazio Carta Carbone Festival di Treviso della letteratura autobiografica per questa bella occasione che mi ha dato di dialogare con voi. E speriamo in questo, speriamo in questo risveglio, speriamo in questa fioritura. Vi invito a rileggere, se volete, la commedia, attraverso anche questo punto di vista, come un grande viaggio iniziatico, un grande percorso, che è il percorso, ripeto, di tutte quante le nostre vite, quando siamo chiamati, anche dalla crisi, a metterci in moto per ritrovare noi stessi. Una buona giornata e un grande augurio a tutte quante voi, a tutti quanti voi.